Ciao a tutte, buon lunedì, video misto, ho un po' di cose da dire prima di tutto grazie perché ho superato i 3000 iscritti e ne sono felicissima sono rimasta senza parole, è stato un bellissimo regalo non è vero, me lo aspettavo no scherzo comunque, allora oggi all'improvviso è suonato il citofono e corriere, corriere pensavo che mi deve arrivare un pacco però deve arrivare dall'America e non è neanche una settimana passata dall'ordine o forse qualcosa in più ho detto ma mi sembra strano comunque ed era un pacchettino, bello sistemato e dentro c'era questo mia sorella mi ha mandato un altro regalo allora questa donna è meravigliosa, io continuo a ripeterlo io lo so che tutti dicono, eh mia sorella è una donna eccezionale lo so, mia sorella è meravigliosa non ho parole, mi sono commossa allora vabbè, bigliettini vari allora io le avevo detto che dalle mie parti all'OVS non c'era la Essence e che quindi avrei voluto volentieri trovare qualcosa lei non mi ha detto niente e poi arriva questo pacchettino allora dentro c'era il Tris, questo qui di correttori poi questo fondotinta io ve li faccio vedere dall'emozione, poi vi farò una review quando li avrò provati poi c'era questo quad di ombretti poi questo smalto qui che voi sapete è il mio colore preferito, è il viola il secondo è il nero, quindi siamo lì spero che si vede, perché si vede blu? Non è blu, è viola comunque è proprio viola, viola viola paramento sacro di Pasqua poi questo mascara qui che ha un pettinino buffissimo cioè non buffissimo, però è proprio vedete minuscolo mi incurverà anche i peli delle gambe proprio farò così e avrò del ciglione poi questa matita per le sovracciglia si vede marrone poi due matite per gli occhi una nera normalissima e quest'altra che è questo turchese bellissimo e infine questo rossetto che è il numero 31 glamorous queen ed è questo colore qui tra parentesi questo profuma di mora comunque questo è stato questo regalo lietissimo da parte della sister ricambierò in qualche modo potrei regalarle qualcosa comunque altra cosa devo fare un update della mia make up collection l'ho detto anche un po' cosa anche perché dovete sapere che mio marito mi ha regalato una cosa fatta tipo fatta fare però ideata tipo mi ha riadattato una cosa ve la faccio vedere no ah no prima di questo no vabbè dai ve la faccio vedere un attimo spittate vedete questo robo qui io ci ho messo tutti mono per il momento che non sono tutti mono però me ne devono arrivare altre due fa proprio tipo espositore però così ce li ho molto più sott'occhio quando quando mi serve qualcosa ce l'ho più a vista perché poi ho gli altri mono i vari mono nei cassettini di qua di qua vabbè poi eccomi ho ricevuto un altro regalino che è questo è questo qui è un sapone alla pappa reale me l'ha regalato una mia carissima amica l'ha preso in in Umbria è fatta è fatto tipo dai frati monaci oddio comunque è meravigliosa buonissima e ragazze altre novità non non ci sono no non ho fatto acquisti questo fine settimana sono cose che capitano però aspetto sorprese quindi voglio dire ci può anche stare che per un fine settimana io non faccia degli acquisti ma che ma sono impazzita sarà il cambio di stagione che mi ha dato la testa no c'era troppo traffico per andare dove volevo andare io sabato sono uscita e c'era troppo traffico comunque questo è tutto io vi saluto ragazzi questa settimana io ragazzi e ragazzi questa settimana io non so se ci sarò sempre perché ho un bel po' da fare in ufficio quindi se non mi sentite o non vi rispondo subito non vi preoccupate io prima o poi di sera possibilmente vedrò i commenti le email un'altra cosa ragazzi per ottimizzare io non voglio sembrare spocchiosa non voglio essere quella che dà l'impressione che non vuole rispondere però molto spesso sotto ai miei video mi ripetete sempre la stessa domanda o che riguarda bene o male la stessa cosa scorrete prima nei commenti perché io di solito alle prime domande rispondo cioè non è cerco di rispondere però alle prime domande poi dopo se mi rifate la stessa domanda basta che guardate e questo è that's all vi auguro buona giornata e voglio provare anche questo basta ombretti mi sommergeranno comunque bacio a tutte ciao